Buongiorno e siamo arrivati all'appuntamento di giovedì 28 di novembre e 120, le pillole di 120, quindi l'appuntamento quotidiano che in quattro fasce orarie vi accompagna durante la giornata alla scoperta di ciò al quale si potrà partecipare stasera a Taranto, provincia o regione, insomma a seconda di quelle che sono le segnalazioni. Come sempre vi invito i direttori artistici e gli organizzatori a mandare una mail per farci scoprire quelle che sono le iniziative organizzate attraverso eventi chiocciola studio100.it. Siamo pronti ad accogliere le vostre segnalazioni ma intanto abbiamo già qualcosa di cui parlare perché questa sera in città ci sono una serie di eventi particolari. Uno tra questi che ha visto il Via lunedì 25 novembre è il Monster Fantastic Film Festival, un festival che ormai è una tradizione, gli altri anni si è svolto sempre nel periodo a cavallo con Halloween, quindi fine ottobre, quest'anno si è spostato in avanti di un mese e dopo i primi tre giorni di programmazione facciamo un po' il punto della situazione insieme a Davide Di Giorgio. Davide ci sei? Eccoci, ciao Sabrina, grazie per l'invito. Allora aspetta che lo devo sentire meglio in cuffia, ok ci siamo, mi senti? Sì sì, perfettamente. Molto meglio. Allora Davide ti vedo abbastanza riposato pur essendo arrivati al quarto giorno di programmazione del festival. Allora per chi non conoscesse questo festival importante a livello nazionale direi brevemente di che cosa si tratta e poi facciamo il punto un po' sull'edizione di quest'anno su quello che ci aspetta a partire da stasera fino al 30. Siamo un festival cinematografico di settore ormai tra i più importanti in Italia che si occupa di cinema fantastico in tutte le sue declinazioni, io sono il direttore artistico insieme a Massimo Causo che è il direttore organizzativo e siamo ovviamente critici e programmatori a 360 gradi e il nostro programma riflette tutto questo chi ci ha seguito in questi anni lo sa, cinema fantastico, cinema horror ma anche cinema nell'accezione più ampia perché ci si trova un po' di tutto in questo programma, varie cinematografie, vari stili, varie sorprese. Beh ho visto che quest'anno insomma anche nella denominazione abbraccia quella che è il cinema fantastico perché a volte, e io sono la prima, quando sento parlare di cinema horror ovviamente ho un po' di allontanamento ma quest'anno vedo che c'è, insomma c'è un'apertura maggiore anche ai più giovani perché sta aumentando anche il coinvolgimento dei ragazzi, soprattutto i ragazzi delle scuole, i più piccoli che comunque sono molto affascinati da questo genere. Come sta andando i primi giorni insomma in cui vi siete confrontati con la realtà tarantina e avete avuto la vostra casa al cinema Savoia e poi parleremo di quello che accadrà da stasera fino al 30. Insomma come è andata? Parliamo insomma delle novità di quest'anno del festival e facciamo poi il punto della situazione. Allora quest'anno abbiamo un festival ancora più ambizioso del solito, sono più di 50 titoli fra lunghi e cortometraggi abbiamo fatto un lavoro enorme in fase di selezione, il pubblico sta apprezzando, stiamo ricevendo feedback molto positivi proprio perché appunto come dicevo prima c'è molta curiosità nel programma, cioè voglia di far vedere, voglia di conoscere, il pubblico risponde. Poi abbiamo coinvolto la giuria degli studenti grazie alla collaborazione con il premio Pricò per la prima fascia noi iniziamo ogni giorno alle 17, la prima fascia è quella del concorso cortometraggi che ha una sua giuria specifica ma che quest'anno vede coinvolti anche gli studenti del progetto Pricò che quindi daranno anche loro un premio e stiamo ricevendo feedback anche molto divertenti nel senso che è molto divertente vedere le reazioni perché le reazioni dei più giovani sono sempre molto spontanee. Poi nei prossimi giorni ci sarà anche proprio specifico il nuovo concorso Monsters Kids per i giovanissimi e quindi sarà anche molto interessante provare quest'altra strada perché ovviamente il fantastico si deve rinnovare e guardare al futuro e quindi le nuove generazioni sono l'infa imprescindibile. Io ricordo bene l'anno scorso insomma che arrivavano genitori con bambini molto piccoli insomma intorno agli 8 anni che erano venuti lì appositamente la mia preoccupazione era dire scusate ma c'è il festival dell'horror invece poi ci rispondevano ma siamo venuti apposta perché ovviamente anche attraverso l'utilizzo dei videogiochi ormai sono un po' più avvicinati a queste tendenze o comunque a questo genere. Quindi i primi tre giorni di casa al cinema Savoia che ormai vi ospita da quando ha ripreso le attività appunto il cinema e qual è stato il mood, che cosa si respirava in queste sere? C'è una bella atmosfera perché noi abbiamo un pubblico molto dedicato abbiamo alcuni che vengono e si fanno tutta la maratona sette ore di fila dalle 17 fino a mezzanotte e anche oltre proprio perché sono affascinati dalla diversificazione del programma poi quest'anno abbiamo inserito anche perché ascoltiamo il nostro pubblico abbiamo ricevuto dei feedback in questo senso abbiamo inserito la segnaletica quindi sul programma di sala che è questo stampato, ci sono i triangolini non so se si vedono di qua comunque chi ve lo vedrà ci sono anche sul sito una sorta di leggenda insomma che indica la pericolosità della visione esattamente, l'intensità, io lo chiamo scherzosamente il violenziometro appunto il livello di... ci sono comunque molti verdi quindi molti che sono per tutti, poi qualche giallo e pochissimi rossi ok, senti allora dicevamo appunto che i primi giorni si sono svolti al Savoia invece da oggi per appunto giovedì, venerdì e sabato tornate nuovamente allo spazio porto via Diceforofuoca 28 dalle 17 alle 24 circa per i primi due giorni e poi sabato dalle 17 alle 22 quali sono, insomma, che cosa ci aspettiamo che cosa... ecco, se tu dovessi fare un invito delle tre giornate che cosa evidenzieresti? che cosa di tuo gusto personale ma anche ormai conoscendo il gusto del pubblico che cosa inviteresti di più a seguire? Beh, intanto farei un... sottolineerei molto la nuova... anche questa novità la nuova sezione Vortex curata da Massimo Causo che, diciamo, porta in dote il bagaglio dei 17 anni di lavoro al Torino Film Festival dove curava una sezione di ricerca anche qui ha creato questa nuova sezione di ricerca quindi sono film sperimentali e fra le altre cose c'è un omaggio a due registi di Singapore è una novità assoluta quindi è anche una prima nazionale per cui invito sicuramente a vedere quelli che saranno anche allo spazio porto spazio porto dove poi siamo di casa perché è in assoluto la location dove abbiamo fatto più edizioni quindi siamo contenti di rinnovarle e poi ci saranno sempre gli eventi serali ci sono i dicotomici che tornano con un action indiano completamente folle quindi, come al solito, follia e divertimento ma anche tanta qualità perché comunque noi siamo un evento culturale e onoriamo questa qualifica qual è il tema, il leitmotiv di quest'anno? perché ogni anno c'è sempre un omaggio un riferimento che comunque in genere viene anche ripreso nella locandina di presentazione sì, locandina che quest'anno è curata da Alessio Fortunato che è uno dei grandi artisti della nostra terra illustratore per Bonelli che ovviamente l'abbiamo scelto subito perché sapevamo che il tema era perfetto per lui sono le vampire ogni anno, essendo noi monsters ogni anno c'è una creatura del fantastico di riferimento quest'anno ci sono le vampire che ci permettono fra l'altro di fare, di tributare un omaggio a un grande maestro del fantastique francese che è Jean Rollin abbiamo già mostrato i primi film al Savoia con un grande riscontro lui è un autore surrealista poetico, onirico ma davvero non il classico film di vampire sanguinolento che la gente si pensa ma un autore che ha definito una poetica attraverso queste creature stiamo mostrando le edizioni restaurate grazie alla collaborazione con l'editore inglese Powerhouse siamo molto orgogliosi di questo beh insomma è importante far sapere alla città quanto possa essere rilevante un festival al quale magari non ci si avvicina proprio come dicevamo prima perché magari per gusto personale però c'è tanto lavoro dietro c'è la partecipazione di enti importanti c'è la partecipazione anche di registi così come giurati che poi giudicheranno i vari film nella serata finale insomma di tutto rispetto di livello non solo nazionale ma internazionale quindi il vostro lavoro di ricerca continua io lo so 365 giorni l'anno e poi il risultato e questa creatura alla quale siete molto legati e insomma veramente ringraziamo quindi fai l'ultimo appello per invitare noi chiaramente ogni giorno ricorderemo nelle pillole i vari appuntamenti quotidiani con il Monster grazie Sabrina sì assolutamente veniteci a trovare anche e soprattutto se non siete appassionati perché in questi anni abbiamo stupito tanta gente che non ci credeva invece davvero questo è un festival di cinema a 360 gradi chiunque potrà trovare qualcosa che gli piace e soprattutto quest'anno perché lo dico senza false modesti è l'edizione migliore che abbiamo fatto davvero i titoli sono tutti di altissima qualità quindi vi aspettiamo poi l'ingresso è gratuito davvero non c'è spesso questa cosa da sottolineare assolutamente era tanto al cinema quanto a spazio porto ingresso libero e quindi insomma sarà l'occasione per vedere un film bere una birretta e magari confrontarsi anche con gli altri che sono no? cioè che comunque sono gli amanti del genere e non solo insomma anche alla scoperta con gli autori di nuove tematiche grazie buon lavoro un buon lavoro esteso ovviamente anche a massimo causo e ci vediamo presto e viva il Monster Film Festival grazie viva il cinema ciao ciao e allora noi continuiamo con gli appuntamenti della giornata odierna a giovedì 28 di novembre abbiamo parlato di cinema rimaniamo nell'ambito cinema segnalando il film che sarà proiettato al Mercato Nuovo in via Mercato Nuovo quartiere Porta Napoli e il film L'inquilino del terzo piano di Roman Polanski dal cinema passiamo al teatro in realtà questa sera dalle 19.30 presso l'auditorium Tata ai Tamburi partono i laboratori teatrali dedicati alle famiglie del quartiere Tamburi e Città Vecchia in realtà c'è uno spettacolo che sarà presentato che racconta le storie, le emozioni e i legami costruiti insieme sotto la guida delle insegnanti che hanno seguito questi gruppi di lavoro è un progetto teatro sotto le ciminiere che si inserisce nelle azioni pilota per il welfare culturale e la valorizzazione dei luoghi di cultura promosse dalla regione Puglia rimanendo in tema di teatro o comunque musica e teatro ne abbiamo parlato lunedì scorso in diretta insieme al presidente dell'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza Paolo Ruta questa sera parte ufficialmente la stagione concertistica l'ottantunesima stagione concertistica dell'Associazione Amici della Musica parte con un omaggio a Giacomo Puccini a cento anni dalla sua scomparsa ed è il concerto inaugurale dal titolo O mio Puccini caro che in qualche modo riprende il titolo di una delle famose aree di Giacomo Puccini questo galà pucciniano vede come protagonista il tenore Gianluca Terranova accompagnato al pianoforte da Vincenzo Rana quindi un in bocca al lupo agli amici della musica che insomma ritornano come ogni anno con grandi stagioni di musica insomma soprattutto la storia della musica questo per il momento quelli che sono gli appuntamenti di oggi 28 di novembre ci rivediamo domani per raccontarvi cosa accadrà nel venerdì 29 novembre grazie a tutti da Cento Eventi grazie a tutti grazie a tutti